Grazie all'ingegno di un giovane imprenditore e alla sua sensibilità è tornato a splendere il monumento ai caduti per la patria eretto a Torre Vecchia Tiatina sul finire degli anni 70. A liberare il monumento da muffe, smog e guano di piccioni, un prodotto naturale innovativo in grado di ripulire la pietra e riportarla all'antico splendore Gianluca Morese. Abbiamo semplicemente inventato e brevettato questi prodotti naturali, biocompatibili, scaricabili tranquillamente in fogna che con la sola applicazione riportano la pietra all'antico splendore. In particolare, un ulteriore vantaggio rispetto a quello che può essere una sabbiatura o un'acidatura è che il nostro prodotto non va ad intaccare minimamente la pietra, anzi con il suo processo innovativo di ossigenazione, ripeto ancora, assolutamente ecocompatibile, riesce a riportare la pietra all'antico splendore, togliendo pian piano tutti quelli agenti di smog, di muffe, che possono intaccare la superficie della pietra stessa. Queste, ha commentato il sindaco Katia Baboro, sono piccole attenzioni che identificano le persone. Un gesto gentile verso l'intera comunità è uno dei suoi monumenti più cari. Una grande soddisfazione perché queste sono piccole attenzioni che poi identificano le persone, perché l'attenzione ad un monumento può essere anche una cosa considerata superflua ad alcuni, ma questo è un monumento che ha un valore perché ricorda il sacrificio di tanti nostri concittadini e nella pietra appunto sono incisi tutti i nomi con tutte le date di nascita e se voi avete l'occasione di leggere sono all'incirca tutti i ventenni, diciottenni, quindi tutta una bella gioventù di Torravecchia che avrebbe potuto mettere su famiglia e far crescere ancora di più il nostro paese e qui invece non è stata data questa possibilità, purtroppo a causa della guerra, a causa di tutto quello che succede nel mondo e continua a succedere, per cui è un bel gesto ricordarli e fare anche la pulizia di questo luogo. La pulizia del monumento è stata donata dal candidato a consigliere regionale della lista Udc-Dcidea, Michele Suriani. Torravecchia Teatina perché è un comune di eccellenza, è uno dei tanti comuni della provincia di Chieti che noi amiamo, il nostro sindaco e l'amministrazione hanno dimostrato di riuscire non solo a valorizzare la storia e il simbolo dietro questi monumenti ma anche un comune che con tutte le sue caratteristiche e peculiarità è stato davvero efficientato, fatto funzionare bene ed è uno degli esempi di fiore all'occhiello di come si riesce ad amministrare una pubblica amministrazione. Quindi noi siamo qui perché questa città, questo paese e tutta la nostra provincia è fondamentale all'interno dell'Abruzzo per il ruolo che appunto dobbiamo andare a rivestire in Italia e in Europa ricordando che è proprio da qui che partiamo, che proprio queste sono le persone che devono consentire a noi, ai nostri giovani e a tutti di andare avanti in spirito progressista ma senza dimenticare da dove veniamo.